30 like di... facciamo un video di raccocano bella ragazzi di Atrak oggi ragazzi parlo abbastanza di raccogli se lo puoi dire senta dalla mia voce oggi ragazzi farò un prank che la Recon Expert e poi gli farò vedere ad Altaldo gli dirò che non l'ho scioppato e poi gliela farò vedere dicendo che mi l'ha regalata un amico però sono in certe parti per non far sentire e inizio un po' di 3 ok ragazzi siate? registriamo da 3 a 2 assolta che mi metto la mia skin ah giusto io mi metto la mia skin qua fa muro registriamo da 3 iniziamo da 3 2 2 1 1 1 bella ragazzi di Akra io sono Kodias io sono Refer io sono Altaldo ragazzi oggi faremo come al solito una challenge ma abbiamo visto che non ce l'avete consigliato comunque ragazzi è uscita la Recon non possiamo scioparla non possiamo scioparla ma quando io ho sposato i più games solo perché se me la regala comunque ragazzi abbiamo chiesto un amico se ce la regala e stiamo aspettando la sua risposta comunque ragazzi ma qual'è la challenge ma qual'è la challenge oggi la challenge è tagliamola questa ah ok la challenge è solo armi bianche solo armi bianche solo armi bianche una challenge molto standard oh raga oh raga 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 no che ti devi di tagliare questo che coglione se raga apriamolo apriamolo oh spero che ti faccia il rego d'export oh che cazzo d'export aspetta aspetta ma non ci credo io la volevo in serio no no grazie mille no no ma non c'è tu come ti chiami è il rapper guardate ti ammazzo quando ti vedo anche per strada anzi ammazzo pure il tuo amico sai e perché lo ammazzi grazie mille e perché lo ammazzi sei geloso un po fai è bellissimo astaga al saldo geloso astaga al saldo geloso direi che il video può finire qua no mi basta questo video per oggi rega oggi niente challenge recon expert ok nel video di domani faremo la challenge con delle armi bianca ragazzi spero questo video vi sia piaciuto ragazzi ciao bella ragazzi dovete lasciare dovete lasciare 30 like e a 30 like ok no meglio lo vedrà il video a 30 like vi facciamo il video dove dirà cosa ne pensa di questo prank fra perché sicuramente vedrà il video quindi rega ciao